salve ragazzi oggi andremo ulteriormente avanti con castle bay siamo arrivati al capitolo 10 più andiamo avanti e più ci avviciniamo verso la fine del gioco anche se io ho anche contenuti aggiuntivi del gioco quindi stanno due capitoli in più oltre a quelli che vedremo insomma andiamo avanti vediamo al capitolo 10 il primo livello che è la tomba del titano baba yaga ha mandato il nostro eroe a combattere il titano e io ho mandato la sua anima a contrarre il titano ah chi è questo? questo è Zobek che impatta diciamo l'altra volta Zobek non ci darà più fastidio poi il mio amico sta per entrare nella terra dei figli avvicinandosi sempre di più alla sua battaglia di figli devo trovare un'altra strada e cercare di rincontrarla però affrontare solo sull'essenza questa terra è un sacrificio che spero possa affermare e che sacrificio è c'è qualcosa di strano più o meno avanti più ci avviciniamo verso la morte è arrivato sin qui quindi devo credere che possa andare in fine infatti che scena strana dove ci troviamo non si sa oh siamo cos'è una caverna cos'è stata così? ah si sa scaliamo questa cosa che non avevo capito cos'è eh strano ah guardate c'è un buco sopra mi piacciono questi colori bene molto bene beh ah si sa pure ragazzi quanto stiamo in alto molto in alto eh beh che fa sali 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 che cos'è? siamo fuori ehi guardate un po' laggiù un muro di ossa eh non ti talo molto è un cimitero questo è un cimitero questo è un cimitero dei titani eh no come non si scende così ah ecco si scende alla garbata ma lì e se me lo dicevi prima io lo fai uscire ecco ecco scendiamo alla garbata oh no qua c'è qualche cosa che stiamo oltre a stare scherzi la cosa sarà così oh no mi sto sbagliando no non mi aspettavo come se mi dovesse l'attaccare i morti beh adesso su ehi qua non si va non si va bene e adesso no no la ne beve velenosa la ne beve velenosa e velenosa e non devi far così e no e razza di merda ora comincia il fatto dei maledettissimi salti in questo gioco non vengono mai bene allora aspetta no si l'ha fatto ha fatto la grazia che sono quei cosi? che sono quei cosi? degli... che cavolo sono quei cosi? ho drogato le loro informazioni che cavolo sono quei cosi a te? ehi ehi come ti permetti ehi io vi faccio il mio super no va 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 ok dove le loro x oh ne avete rompito ehi si eliminiamo anche un po' le disgrazioni ah ah si sistemiamo pure questo dai perchè non muori? perchè? perchè? che ci vuole capire che devi morire? tu sei... sei già morto perchè non voglio rimanere morto? oh bravo bravo hai capito che alla fine dovevi morire? quella era il destino e quella è la bene ragazzi oh questo è un cadavere normale una pergamino e qua cosa sta? ehi la testa di un titano eh qua si scende ci sono dei pezzi di scheletri non è che qua si vuole la vita ehi puro 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 aumenta la magia dalla luce e io ce l'avevo quasi niente vedete quindi con la dell'ombra non c'è proprio niente non è il massimo non è il massimo ancora è quel co può sembrare il massimo ma non glielo è andiamo dai dai mo che cavolo si faceva qua aspetta stava qualche fregatura però non mi ricordo non mi ricordo cazzo che si entrava qua di qua si andava eh e dai no mo iniziano le storie le cose strane ah beh qua qua si qua forse si faceva cadere qualche cosa mi ricordo bene e là si ritorna lì che facciamo allora no no ragazzi qui bisogna tornare lì allora fai la balacus sali sopra qui ok e vabbè dai era destino dai non è cosa oggi non è come sempre tu non sei un mongolo di merda che non sa fare i salti deficienti i salti locchi non li sai fare i salti di merda non li sentiamo vediamo questo di cosa altrimenti pergamino solo pergamino non avete altro lei è qua sì ma io come cavolo dovevo fare la mia cioè vedi si vedono pure ma cos'è sta preso per il culo che devo salutare di là qua questa è l'arte che devo fare io ma perchè sta chiuso perchè sta chiuso e dai si muo deve morire di di asfissia per la puzza che sta una una merda e come devo fare devo salire la sopra forse e non salta quel coglione di merda non puoi saltare no sali sali nooo nooo coglione coglione non sa salire sopra un'altura sali sopra la cosa nooo sali sali oh e nooo oh vedi che bello vedi come sta messo il dito apposto sta si e nooo mo comincia a fare i salti da deficiente oh no di nuovo quei corsi no andatemelo a quel paese si vai fammi il salto dai cento di fretta ma perchè ah sei come le ali di merda non ci ho pensato per niente che ho le ali cascate che in questo caso saranno utili vedi che è culo vedi sei pure culato hai le ali hai le ali eh? hai le ali ah ma perchè sei coglione mamma mio come mi fai robbier come si fa oh cos'è sta tomba qui no no cos'altro succede mo no no che schifo una tomba ragno una tomba ragno ah ah pure sti mostri orribili che sono in questo gioco ah dai si facciamolo fuori definitivamente ah non si fa niente con i cazzo dei coesi eh si ti ho preso bastanto nella tomba che vi ho ah anzi no fuori dalla tomba ah adesso fuori dalla tomba muo eh ti sei divertito per fare il deficiente a nascondersi dentro una tomba ma proprio a dire voglio molto bene ora Gabriel non fare cavolate in lontananza si scorge il muro delle ossa guarda 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 c'è un cazzo e meh e meh e che me ne faccio io che me ne faccio io che significa stare qui c'è io sto qua a me ahhh non è la chiave che attive meccanismi che chiave oh ma no le chiavi servono qua datemi le chiavi ne eccola eccola eh meno male mi sto per buttare giù senza guardare la chiave ne metti la chiave che succede adesso ehi una mano che prende vita da sola da sola figli figli vediamo meh è spostato sul braccio niente di me posso continuare ad andare avanti beh non ci vuole un bel salto e va a finire nell'acqua cioè tra tutte le cose che sta nell'acqua nell'acqua avvelenata perchè lui è un campione di salto in lunghe capito? lui è è un fenomeno cioè come lui non salta nessuno e tutt'altro non tiene più le ali cioè premi il tasto per fare le ali vedi ma poi no no ma comincia a scendere tutti insieme la il veleno la viti meh e coglione non si muove muoviti veloce si muoviti ti devi fare tutto il bagno là dentro non merda si due chiavi B più uno due bastardo due chiavi e ora dove l'altro vediamo una magari sta qua no manca manca implorando eh no edizione ho la chiave di merda non è che si sale qui mi ricordavo che mi ricordavo che qua si salì mi ricordo bene mi ricordo bene o no forse non hai ricordato se non mi ricordo no 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 no